E tu sei pronto? Mi avvicinerò a lui, lo guarderò dritto negli occhi E che gli dirai? Sua figlia è la cosa migliore che mi sia mai capitata in tutta la vita Sarei onorato se mi desse il permesso di sposarla Cosa c'è che non va in te? Sei diventato ufficiale più velocemente di chiunque altro nella storia della Marina Non ho mai, mai visto un uomo rovinarsi così Che ci vede mia figlia in te per me è un mistero Goditi queste esercitazioni navali Hopper, non ne vedrai altre Ma che roba è? Contatto visivo sconosciuto, plancia non rilevo niente Una squadra in ricognizione Hopper, vai tu Ricevuto Recuperatelo e tornate alla nave Il mio radar è andato Pronti al fuoco? Con quali armi signore? Tutte Per me Così Sele Sele Sele